Riscuotevano ogni giorno negli uffici postali di Chieti migliaia di euro con singole operazioni al di sotto della soglia del controllo antiriciclaggio. Ma i carabinieri se ne sono accorti. Nel frattempo ad Ascoli Piceno i finanzieri si sono insospettiti di una sede aziendale ubicata in un condominio reso inagibile dal recente terremoto. Indagini lunghe partite addirittura nel 2019 che hanno portato nella mattinata di oggi all'arresto di 13 persone oltre al sequestro di beni per circa 12 milioni di euro. I provvedimenti dell'operazione Easy Money sono stati emessi dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Chieti nei confronti di appartenenti ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti metallici, al riciclaggio e autoriciclaggio nei confronti di due società, siti a Monticchio in provincia di Reggio Emilia e l'altra Giulianova. Le indagini coordinate dai finanzieri di Ascoli e dai carabinieri di Chieti e Pescara hanno permesso di individuare il soldalizio criminoso che reperiva sul territorio nazionale rifiuti metallici in nero e che tramite una simulata copertura documentale e contabile venivano convertiti in rottami legittimamente acquisiti da cosiddette teste di legno. Ovviamente noi qui abbiamo acquisito importantissimi elementi di prova documentali e anche prove classiche, sommare informazioni e quant'altro. Ovviamente questi elementi che noi riteniamo importanti devono poi essere conestati dall'impatto dialettico, dal confronto dialettico con le difese, ma siamo fiduciosi perché abbiamo fatto un buon lavoro. Io ritengo che abbiamo acquisito importanti elementi di prova. Chieti c'entra perché a Chieti era praticamente la mano d'opera, permettetemi di chiamarla così, di questa società fantasmi, il centro nevralgico, che praticamente provvedeva al riciclaggio del denaro e alle fatture false. Non solo, metteva a disposizione anche il servizio materiale di trasporto del denaro contante che veniva reperito presso gli uffici postali e drenato dai conti correnti delle società cartiere, servizio di recapito alle società di Montecchio e alle società di Giulianova. Quindi è qui che c'è il centro nevralgico sostanzialmente, è qui che si sono verificati i primi reati più gravi e quindi la competenza è qui che ha ritenuto anche il GIP che ha adottato la misura.